Buongiorno, allora vi ho fatto vedere il lavoro di centralizzazione per il nostro core, vi ho fatto vedere le sospensioni e vi ho fatto, ora vi farò vedere il lavoro di body start body flying solo con le maniglie, quindi andando a fare un rinforzo muscolare sia per la parte superiore ma anche sia di sospensione per le gambe. Iniziamo la nostra lezione, scalderemo le nostre spalle, circonducendo le scapole e andiamo a aprire bene la gamba a destra e utilizziamo anche le nostre braccia in modo da distenderle in avanti e aprirle in fuori, di nuovo, ora lascio giù le spalle, scivolo giù le braccia e mi distendo, ora lasciate le gambe divaricate e da qui spingerò le braccia in avanti distendendovi bene, sentendo bene il vostro corzetto. Ci aggiungerò ora un rematore alla spalla, quindi piego le gambe e di nuovo, questa volta sollevo anche i talloni e scendo, ancora sollevi i talloni, per farlo più intenso portiamo anche l'equilibrio, quindi andremo a sollevare la gamba destra andando a superare bene l'equilibrio, ancora, il lavoro qui è molto sia di centralizzazione ma anche di lavoro delle nostre spalle. Chiuderemo i gomiti, spingeremo i gomiti in avanti e ritorniamo in standing, apriamo le maniglie, di nuovo, spingo i gomiti in avanti e apro le maniglie, di nuovo, ci aggiungo anche una rotazione, quindi quando spingo le maniglie faccio una rotazione portando la mano sinistra verso la destra e vado, uno, tirate bene il braccio verso la spalla, due, ancora, è fatica è, hop, giù, ancora, su, e giù, lo rifacciamo dall'altra parte, quindi portiamo il rematore alle spalle, giriamo con la mano verso la spalla e andiamo, push, verso la spalla, uno, e torno, uno, e torno, uno, e torno, e riapro. Ora porterete i passi indietro con le braccia in avanti, spingeremo ruotando le spalle, aprendole e tornando in alto, ruoto bene le spalle, giro le manine e vado a fare un'estensione, torno in alto con le mie braccia, mi distendo, ruoto le spalle e vado giù, ancora, hop, per gli esercizi di tonificazione andiamo a fare un esercizio invece in mobilità, tronco e braccia, ok? Ancora, hop, e giro, ancora, hop, giro, cambio il piede, passo, abiti, e vado a fare una rotazione, uno, vado, uno, vado, giro, una, e ritorno, un passo e andiamo a utilizzare le nostre maniglie con il piede, quindi da qua spingerò la maniglia attraverso il basso, e mi ha giù, quindi l'utilizzo del nostro offline, è lungo, è universale, voglio aumentare l'intensità, prendo quella bassa, e mi ha giù, vado, e mi ha giù, lo faccio anche dall'altra parte, metto bene le maniglie sotto il piede, spingete bene il piede da qui, con la mano opposta, ginocchio, quindi vado a lavorare anche la mobilità del bacino, ok? E ritorno, ora, e ritorno, vado a prendere anche la maniglia grande, chi me lo vieni? E mi distello il mio tostando, e salgo, mi allungo, spingete bene, ora, vado a fare una sospensione con le maniglie, mi tiro dal bravo, metto il piede in, come al cinque, e se è il stand, se è in sospensione, quindi l'utilizzo della maniglia, mi serve anche per la sospensione, ho tutte e quattro gli altri in sospensione, piego il ginocchio, sinistro e distendo il destro, richiuderò le mie gambe, lo faccio dall'altro lato, provo a fare una staccata al centro, e distendo tutto, mi lascio andare, stengo le gambe, e apro, e chiudo, si sono impegnati lì, assicuro, piego, riporto, ora il dondolo, questa volta in uno stand incompleto, sei qua, piano piano scendi, 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 frena, 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 e ti lasci scendere giù, 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 chiudo, tolo la manigna, tolgo l'altra, e vi aspetto alla palestra per provare una mia rezzettipo di flag. Grazie.